ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video questo è un video che negli ultimi anni ho sempre fatto chiamandolo year of me cioè un video dove rifletto in realtà ho già riflettuto messo giù su carta tutto quello che mi è successo quest'anno di rilevante e che mi ha insegnato qualcosa e che mi sta aiutando ad evolvermi e ci faccio un video riguardo perché mi serve anche a me per mettere nero su bianco comunque per raccontarmi tutto quello che mi è successo perché a volte anzi sempre tendo a andare troppo veloce andare sempre oltre e non a registrare tutti gli accadimenti e penso che possa essere utile anche a voi quest'anno lo faccio un pochino in anticipo infatti sono a padua durante i giorni di natale perché quest'anno non passerò a capodanno in italia ma il 27 io partirò andrò nelle filippine per due settimane quindi quando starete vedendo questo video io non sarò qui non sarò in italia ma sono dall'altra parte del mondo e sarò in preparazione per la festa di capodanno ma probabilmente siccome sono 8 ore avanti per me sarà già il giorno dopo insomma un po un casino ma vabbè dettagli inutili iniziamo bene sarà un video abbastanza lungo quindi iniziamo con lavoro come sapete io quest'anno essenzialmente perché in realtà ho iniziato a settembre dell'anno scorso però i primi mesi è stato un attimo di rodaggio però questo è stato il mio primo anno intero da influencer quindi a settembre dell'anno scorso ha deciso di non iniziare perché avevo appena finito gli studi una carriera normale tra virgolette quindi un lavoro d'ufficio otto ore al giorno eventuale timbro del cartellino ma ho deciso di rendere il mio lavoro quindi la mia attività principale il mio la mia fonte di introito principale quello che era il mio hobby perché durante i miei studi all'università ho coltivato i miei account social e a settembre dell'anno scorso erano abbastanza grandi da potermi garantire di lavorare quindi questo è stato il primo vero anno di questa attività che mi ha dato tante soddisfazioni ma anche qualche delusione la mia più grande soddisfazione di quest'anno è indubbiamente il lancio del mio sito web che ho costruito da zero da sola quindi sono assolutamente fira di quello e il lancio dei miei sliders di cui io più che il lancio del prodotto in sé mi sono veramente divertita a fare tutta la parte di marketing dietro quindi il video promo la suspense i vari contenuti foto video la gestione di tutto il lancio del prodotto gli allenamenti e gli eventi e rimini wellness quindi quello è stato davvero una grande soddisfazione perché sono riuscita a utilizzare le mie conoscenze che ho appreso durante i miei anni universitari a qualcosa di mio e di tangibile indubbiamente sono stati fonte di soddisfazione anche i miei viaggi quest'anno sono stata per lavoro in val gardena a merano in germania con adidas e poi il viaggio che è stato un po l'apice di questo anno è stato il viaggio a dubai che io ancora stento a credere che abbiano dato ma però così è stato e di questi sono molto felice fiera sempre parte del mio lavoro ma un pochino diverso sono stati gli speech all'università che ho fatto ne ho fatti due quest'anno sempre con l'università quoa il primo è stato un intervento di 10 minuti molto breve il secondo è stato molto più intenso a ottobre di quest'anno dove ho ottenuto una lezione al master di tre ore la preparazione per cui è stata veramente intensa divertente faticosa ma mi ha dato veramente tanta soddisfazione e un'altra cosa di cui sono molto fiera che mi ha fatto tanta soddisfazione è il conseguimento del diploma per diventare personal trainer quindi quest'anno sono felice perché sono riuscito a utilizzare la mia testa e questo è una cosa che l'anno prossimo sarà molto ricorrente e che non vi voglio anticipare ancora nulla sempre quel solito discorso dei vari appuntamenti che ho avuto la settimana scorsa ma questa cosa dell'utilizzo della mia testa è un discorso slash questione che mi sono portata avanti in questi ultimi mesi ho avuto un periodo di crisi per il mio lavoro per quello che prevede il mio lavoro e credetemi che da gennaio da quando tornerò delle vacanze ci sarà un grandissimo cambiamento spero sono all 80 per cento sicura ma ve ne parlerò appena sarà tutto chiarissimo e sono sicura che molti di voi apprezzeranno perché probabilmente vedranno lo scintillo nei miei occhi ma ve lo dico ve lo preannuncio tante cose stanno per cambiare ci sarà una sorta di ritorno indietro e probabilmente il lavoro come l'ho inteso quest'anno cambierà totalmente non vi dico altro probabilmente vi ho confuso più di quanto sia confusa io però sì ma ve ne parlerò più avanti però sono sicura che apprezzerete lavoro ci siamo parlato adesso passiamo alla vita personale come sapete jimmy è venuto a convivere a com'è a milano da marzo di quest'anno se avete seguito i miei vlog saprete che ero abbastanza titubante slash timorosa perché in realtà sono ancora convinta che una relazione nel momento in cui si va a convivere c'è un 50 e 50 diciamo può andare bene può andare male su di noi non è che ero proprio spaventata avevo paura che andasse male perché comunque nonostante siamo stati sei anni separati abbiamo vissuto lontano comunque noi quando ci vedevamo passevamo tanto tempo insieme a volte soltanto dei weekend comunque sono quattro giorni oppure a volte settimane a volte anche un mese durante le vacanze estive quindi eravamo più o meno abituati a convivere però ovviamente la convivenza giornaliera è totalmente diversa c'è stato un periodo di assestamento però sinceramente il nostro rapporto si è veramente rinforzato non siamo mai stati così innamorati l'uno dell'altra io non so se ve l'avevo detto ma a me jimmy ma come tutti in realtà non mi è mai mancato ora piano nel senso che io ho sempre detto quando vivevamo a distanza che io da sola stavo bene ma insieme a lui stavo meglio non ho mai sofferto la distanza soffrivo le prime ore dopo un periodo prolungato insieme però poi ritornavo alla mia routine ritornavo alle mie abitudini e quella sofferenza proprio quella mancanza spariva adesso no adesso dopo che ci separiamo dopo essere stati insieme un mese due mesi essere parte uno della routine dell'altra separarci è veramente tosta mi manca soffro sento quel vuoto dentro che non avevo mai sentito prima quindi non è che prima lo amavo meno semplicemente era meno parte della mia vita e quindi diciamo che la convivenza ha aiutato questo nel bene nel male ci sono aspetti positivi e negativi di questo quindi convivenza benissimo l'anno prossimo probabilmente dovremo cambiare casa ahimè più o meno perché questa casa è bellissima ma questa casa milano intendo è bellissima ma ha dei difetti ma tutto questo un altro discorso che vi racconterò su cui vi aggiornerò e però sapete che siamo alla ricerca di una casa a milano probabilmente di nuovo in affitto nonostante io vorrei davvero farmi un mutuo comprarmela perché gli affitti a milano sono davvero troppo costosi e allora piuttosto mi impegno a vita prova a livello di salute quest'anno è stato l'anno in cui mi è ritornato il ciclo come ben sapete ho fatto un video al riguardo quindi la mia salute che essenzialmente era quello il mio unico problema di salute sta andando migliorando adesso è sempre più naturale continuo la cura ma è davvero blandissima a livello di integratori medicinali e tutto perché il mio corpo ha imparato a funzionare e quindi sta andando sempre di più da solo e sempre meno con aiuto esterno a livello della mia famiglia una cosa di cui non parlo mai molti di voi lo sanno molti di voi mi chiedono ma io ho sempre voluto tenere lontano la mia famiglia dai social perché è un loro diritto decidere di non essere messi online di non apparire online semplicemente perché lo sono io quindi io penso che forse una volta in un video vi ho fatto vedere mia mamma ma mio papà secondo me voi non avete mai visto mio fratello forse e basta comunque vabbè a parte questo se mi seguite un po saprete che comunque io con la mia famiglia soprattutto con mio papà non ho mai avuto questo grandissimo rapporto comunque nel tempo c'è stato un allontanamento beh sappiate che quest'anno la situazione è molto migliorata c'è stato un riavvicinamento abbiamo finalmente parlato e si sono andati a scandagliare a sfatare tutte quelle parole non dette quelle quei pensieri malati che si sono auto fomentati nell'ira di ognuno che erano veramente inutili quindi finalmente siamo riusciti a parlare abbiamo fatto un discorso ci siamo chiariti e adesso piano piano stiamo ritornando un po come vecchi tempi io ovviamente sono felicissima della cosa nonostante se mi avessero chiesto a tempo fa tua tua famiglia aveva detto la mia famiglia gimme ora invece sono felice ora invece sono felice di poter dire anch'io una famiglia quindi assolutamente felice quest'anno è stato bellissimo soprattutto la conclusione di quest'anno bellissimo soprattutto per questo parliamo di fitness che è forse anche la cosa che mi interessa di più allora i primi sei mesi quest'anno ero ancora con la mia coach che ho iniziato a frequentare a settembre l'anno scorso ma poi a giugno prima delle vacanze estivo ho deciso di non farmi più seguire perché sentivo che non era la cosa giusta la cosa che faceva per me quindi dopo le vacanze ho iniziato un mio percorso che ho sviluppato e migliorato grazie soprattutto ai studi che ho fatto per diventare personal trainer e mi sono studiato un programma di allenamento su di me e devo dire che in questi quattro mesi da settembre a questa parte c'è stato un miglioramento veramente assurdo della mia condizione fisica proprio a livello estetico mi si sono snellite le gambe, mi è aumentato il sedere, sono aumentata nell'upper body, ho molto più addome questo perché so cosa vuole fare il mio corpo nel momento in cui mi sto allenando so quali sono gli esercizi che funzionano più su di me ho studiato e quindi ho capito quale tipo di allenamento deve essere eseguito per ogni parte del mio corpo ad esempio io alleno in modo diverso le gambe dai glutei proprio due tipi di allenamento diversi e di cui vi parlerò nel prossimo video che ho già filmato ma non so se riuscirò a editarlo prima di partire per le filippine quindi probabilmente lo vedrete nella seconda metà di gennaio chiedo scusa ma sono in ferie quest'anno più che mai mi sono dedicata alla performance ho fatto una Spartan a settembre prima del mio compleanno e mi sono divertita tantissimo tanto che penso proprio che l'anno prossimo ne farò almeno un'altra non voglio farla nel periodo freddo perché insomma va ben tutto ma ragazzi è freddo quindi probabilmente la farò prima o dopo le vacanze estive e poi sempre a livello fitness ho deciso di seguire la mia grande passione e sogno che ho avuto sin da piccola che è ginastica artistica a ottobre ho iniziato ed è stata veramente la decisione più azzeccata che io potessi mai prendere nella mia vita sto migliorando la nostra insegnante mi fa sempre complimenti e super fiera di me e io vedo il miglioramento sia nelle verticali ma soprattutto nelle capovolte in avanti salto mortale, i vari trick sto veramente crescendo velocemente e vi giuro sono troppo troppo fiera di me per aver preso questa decisione essere uscita la mia era di comfort perché è comunque una classe giovane sono in mezzo a 18 anni che mi guardano e mi dicono ah ma sei grande però a parte questo mi hanno fatto spaccare quando è successo si è creato davvero un bel gruppo e è bello è bello essere a contatto con queste ragazze super giovani mi sento vecchia in questo momento a dirlo ma ragazzi ho solo 26 anni però si è creato veramente un gruppo affiatato bello divertente è bello io l'ora di allenamento il mercoledì sera proprio me la godo mi diverto mi piace da morire e penso che si sia notato in tutti i vlog e i video e anche su instagram quando vi ho fatto vedere qualcosa penso di aver detto tutto scusate per il video lungo è stato davvero una chiacchierata che ho fatto con voi slash con me stessa di riflessione su questo anno è stato un anno di ambientamento ma anche di riflessione riflessione che mi hanno portato a compiere delle decisioni che però avranno la loro esecuzione slash risultato nell'anno prossimo quindi tranquilli che qui non ci si annoia mai l'anno prossimo sarà un anno di cambiamenti e tante 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 novità e io vi giuro non vedo l'ora di dirvi tutto svelarvi tutto perché secondo me non ve lo aspettereste mai però forse se mi conoscete lo azzeccate vi dico soltanto che quest'anno ho veramente riflettuto e ho capito che io nella vita voglio essere una di quelle persone che si sveglia al mattino ed è felice di affrontare la giornata perché sta andando a fare o comunque fa qualcosa che la paga che gli dà veramente tante soddisfazioni e che ogni mattina è felice di avere la possibilità nella vita di poterlo fare non mi voglio accontentare la vita è una e penso che accontentarsi sia uno spreco è giusto cambiare nonostante questo possa portare anche a livello economico meno introiti, meno incassi però se io ogni mattina mi sveglio e non vedo l'ora di fare quella cosa allora ho guadagnato in salute mentale e penso che sia la salute mentale che ci faccia arrivare molto lontano nella vita sia a lungo termine ma anche in quella di tutti i giorni dopo queste perle di saggezza i ragazzi vi saluto vi auguro un fantastico anno nuovo se siete arrivati alla fine di questo video siete stoici perché questo video penso sarà davvero lungo io vi ringrazio per quest'altro anno insieme sono veramente felice di poter fare tutto questo di poter essere parte della vostra vita e vi ringrazio per essere parte della mia vita siamo insieme quest'anno da 4 anni ho iniziato nel novembre del 2015 quindi fra un anno compiamo 5 anni insieme mi avete vista crescere, maturare, cambiare vita tante volte e sono sicura che neanche il prossimo anno vi deluderò tante novità e basta vai io finisco di chiacchierare vi saluto dall'altra parte del mondo sappiatemi in spiaggia slash al caldo slash con un vestito di paillette per capodanno e poi 12 giorni di costume snorkeling e esplorazioni ciao ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video un abbraccio forte tanti auguri di buon anno buone feste se il video vi è piaciuto lasciate un piace iscrivetevi al canale e lasciate un commento noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao